ecco qui siamo sotto cairano questo è l'ofanto questo è l'ofanto in questo momento diciamo che la situazione qui è molto più interessante dal punto di vista botanico perché è ricchissima ci sono delle piante acquatiche più rare tipo ecco questa potammo jeton se non sbaglio cosa bellissima ho trovato anche qui una stazione di alisma lanciolata eccola qui quindi segnalerò anche questa tutto molto bello dal punto di vista botanico insomma molto interessante ci sarebbe da fermarsi ma la situazione diciamo a livello di 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 acqua di portata d'acqua e lo stesso tragica l'ofanto dei flutti rugenti di cui parlavano gli autori del grand tour del passato è praticamente questo io lo sto attraversando con le scarpe ecco in questo momento potete vedere io sono in mezzo all'ofanto questo è l'ofanto in questo momento attraversando con le scarpe ecco in questo momento potete vedere io sono in mezzo con le scarpe ecco in questo momento potete